Osram oggi presenta un'innovazione dal punto di vista tecnologico in Basilica San Pietro, presentando la nuova illuminazione digitale completamente a LED. Questa illuminazione ha due caratteristiche fondamentali. La prima caratteristica è quella di essere in linea con le direttive che il Santo Padre ha dato di sostenibilità e di risparmio energetico. Quindi grazie a questa illuminazione oggi la Basilica di San Pietro può risparmiare il 90% di energia per essere illuminata nel suo interno. È un fatto molto importante perché questo consente al governatorato della città del Vaticano di poter illuminare completamente, anzi direi ancora di più di quanto fosse nel passato, tutta l'area della Basilica, che ricordo stiamo parlando di 22.000 metri quadri, quindi nella sua lunghezza di 190 metri, nella sua larghezza di 60 metri, nel suo splendore. La seconda caratteristica è quella di avere un'illuminazione ad altissime prestazioni e che soddisfa le esigenze che lo stesso governatorato ci ha dato per poter realizzare anche riprese televisive all'interno in alta definizione. Questo progetto è durato due anni, quindi è iniziato due anni fa con le prescrizioni, la progettazione e alla fine la realizzazione che ha visto in queste ultime settimane che oggi presentiamo. Grazie a tutti.